Ciao ragazzacci, io sono i G2C e oggi siamo qui su City Skyline After Dark è il nuovo DLC che secondo me introduce veramente una parte importante del gioco vi faccio vedere per ora quale mod ho oh l'hard mod, questi qua sono quelli standard ho l'automatic bulldoze che distrugge tutto l'automatic emptying che svuota tutto in automatico traffic manager, si lasciamolo il chirpy exterminator che è quello che uccide l'uccellino lì in alto che mi dà fastidio poi c'è il precision engineering, il trafficking report tool che mi può servire però questo qui lo disattivo, ma si disattivo tanto non l'ho usato allora queste sono le mie mod che userò lo stesso nonostante non siano ancora testate sull'after dark le uso lo stesso facciamo new game, visto che il gioco ci trova poco non mi va di mettere una mappa custom usiamo highland però perché secondo me può essere abbastanza carina abbastanza carina e anche abbastanza difficile facciamo start, tanto ci metterà poco essendo il gioco su sssd si sssssd, sono due s e una d quindi ssd solid style drive che in pratica carica molto più velocemente il gioco vedo una differenza notevole rispetto al... intanto andiamo in pausa hello, hello anche te, hello my darling ok, traffic manager c'è, improved, questo qui non so cos'è boh lo lasciamo lì, fammi un po' vedere, funziona tutto, funziona questo qui l'automatic force bulldozer, forse può darsi che funzioni tutto non vi assicuro niente, non vi assicuro quindi noi siamo qui, abbiamo tutta quest'aria fammi un po' vedere, fammi un po' vedere i venti e l'acqua non me le fa vedere li guardo io, l'acqua va di qua, quindi qua dovremmo prendere acqua qui dobbiamo scaricarla sì, la scarichiamo qui, la scarichiamo ok, quindi io ci sono io ci sono, io ci sono qui carichiamo, poi c'è una zona vabbè, intanto dobbiamo fare la strada allora, strada come le facciamo? la facciamo fino su, fin lunga così però poi questa qui dovrebbe diventare una strada importante se me la metto già adesso così me la gioco male mettiamola fin in fondo, fin qua, dai per il momento facciamo questa cosa così non vi preoccupate e poi le cambieremo tutte non farò tante strade dritte quindi pensate un po' come può essere bello allora, vediamo intanto come tira il vento il vento qui è molto molto forte quindi abbiamo delle zone molto molto ventose felicità, non ci interessa, il traffico vabbè, il traffico, arrivederci, grazie mettiamo subito le zone verdi e poi partiamo subito a mettere quindi mettiamo solo queste come zone verdi partiamo subito a mettere l'elettricità ho capito che quella lì è utile però non posso metterla allora, devo fare un altro pezzettino di strada ma piccolo, 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 piccolo proprio vabbè, lo faccio piccolo, grande, bovedia lo faccio fin qua quello è al 90, sì, facciamolo fin qua perché qua ci voglio piazzare un cazzo di casino però per il momento sapete che faccio? per il momento di qua si entra e di qua si esce potrei fare una cosa del genere un'unione un'unione che sia un senso unico però cioè, di qua si può andare qua così sì, lo faccio perché così loro possono andare dritto e uscire dalla città quindi, se hanno sbagliato vanno di qua, fanno il giro fa cazzi loro non si sbaglia in questa città questa città è fatta per utenti intelligenti poi, fammi vedere dove mettere questa qui non posso costruire un cazzo perfetto, la metto qui questa sarà una zona tipo tipo industriale mettiamola industriale poi, qua, allora dove la posso prendere? lui, qua è comunque si succhia, eh quindi io qua potrei comunque prenderla qui perché è più vicino no, mi viene più vicino più facile è qua, dai allora, la mettiamo qui perfetto, ne mettiamo una e la portiamo fin giù la portiamo fin giù sarà anche un problema ma poi portargli l'elettricità, eh questo è un problema cerchiamo di non finire i soldi anche quasi quasi la faccio fin sotto, va ok, qua e poi facciamo una cosa lo scarico lo metto qui lo metto scarico qui e questo qui lo metto così fammi vedere questo è lo scarico devo per forza portare la corrente perché la corrente non è collegata voi lo sapete all'inizio si fa così ok all'inizio siamo ma più o meno bene, dai oppure aspetta quanto mi costa? portare la corrente fin di sopra ok, io ho quasi quasi 3.000 3.000 4.000 questo mi costa? eh 6.000 no, allora ci metto questo tanto qui è 7 qui è 8 guarda 7, 7 dimmi che c'è un 8 qui maledizione no, monto questo qui 8, fammi vedere 8, tutto 8 sì quindi lo monto qui qui potrebbe essere anche una zona come dire anche una zona eolica chissà vediamo comunque siamo con l'after dark quindi ci saranno diverse cose da controllare abbiamo messo velocità 3 no, non l'abbiamo messa advisor lo vai a fare in culo anche tu controlliamo controlliamo il bulldozer funziona funziona questa mod buono, buono quindi vuol dire che la mod è stata creata ad hoc cioè una mod che funziona nonostante un aggiornamento nuovo in cui non 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 era previsto all'inizio o forse sì non lo so intanto mettiamo questo qui che devo collegare il mondo ok il mondo ok perfetto perfetto ripartiamo con questa città è una zona un po' difficile è comunque piena di isole piena di molto difficile dico che è molto difficile però ce la possiamo fare ce la possiamo cavare bene comunque svilupperemo una zona fammi un po' vedere qui cosa vedo vediamo se vedo qualcosa di differente ci vuole una zona commerciale che comunque te la batto qui te la butto e sono cazzi tuoi per il momento io non vedo degli edifici nuovi non vorrei sbagliare per il momento ancora non vedo gli edifici nuovi ma non posso sbloccare niente lo sapete finché non sblocco qualcosa difficilmente vedrò vedrò delle differenze ok buttiamoglielo qui anche vogliono ancora di qua poi vogliono un altro pochino di blu e lo butto comunque il blu qua stiamo lontani da questa da questa zona centrale per il momento si costruiamo però non mettiamo niente sulla zona centrale perfetto vogliono una zona industriale dove lavorare e gliela buttiamo qui si dai va bene così tanto l'energia dovrebbe scorre info windows si va a fare un culo guarda qui come diventa buio sta diventando buio dovrebbe accedersi i lampioni perché comunque guarda che figata che figata che è di notte scusa vai velocità 1 che ore sono non mi dici l'orario data guarda che bello di notte guarda come può essere bello di notte cazzo che bella guarda che di notte si vede tutto il mamma mia che figata che figata di notte guardali con le luci non si vede più niente non si vede c'è proprio paura qui c'è questa paleolica che gira guarda peraltro il puntino illumina la zona dove faccio il mouse bellissimo bellissimo ci voleva proprio c'è una roba in nepale però con questi aiuti ok quindi noi non possiamo fare nient'altro che per il momento far arrivare persone facciamo arrivare persone c'è ancora un po' di richiesta di verde che comunque andiamo a piazzare visto che comunque ce l'abbiamo ho intenzione di per il momento per il momento faccio delle strade dritte però poi le butterò giù le strade dritte non voglio creare strade dritte voglio fare un su giù sottoterra voglio fare delle belle cosine non vi preoccupate arriveranno però per il momento abbiamo pochissimi soldi quindi niente quindi andiamo avanti così andiamo avanti all'inizio sapete l'inizio è così non potete fare niente qui posso chiedere le cose si va bene non ti preoccupare guarda che bello di notte uh congratulazioni 400 lo aggiungiamo subito landfill site elementary school medical clinic va bene quindi io andrei subito con i rifiuti che è importantissimo peraltro i rifiuti te li impiazzo anche no prima ti aspetta un attimo che qui ti tolgo la questa qui scusi ma lo so che se la metto qui poi non me la fai più aumentare invece io prima te la aumento e poi sono cazzi tuoi quindi qua io aumento questo pezzettino di strada si va bene non c'è bisogno di aumentarla tutta aumentiamo solo il minimo ecco aumentiamo il minimo per poter andare avanti questo qui lo metto lì e mi va a fare tutta la zona perfetto quindi abbiamo già piazzato quello lì come si chiama i rifiuti quindi giallo vogliono un altro pochino di giallo ve lo metto un altro pochino di giallo e un altro pochino di verde quindi verde verde perfetto perfetto qui vediamo se ci si forma del tra guarda che bello ma è bellissimo è bellissimo non ho capito se c'è l'automatic la mod quella lì che automaticamente mi manda ah ecco qua mi dice che è notte vedete qua il mondo c'è una luna che va avanti quindi guarda che bello sono le tre di notte tipo perché vedo questa lunetta qui sotto che sta avanzando quindi penso sia l'orario però sta diventando giorno quindi bellissimo è bellissimo veramente ci voleva finalmente è un gioco anche guarda che difficile è l'alba che c'è quella cazza di lucina lì bello bello dicevo finalmente un gioco dove sei veramente tu padrone della città e non il sim city scagato che hanno fatto alla fine quindi quello l'abbiamo messo iniziamo con pompieri o scuola no medicina o scuola mettiamo la scuola che la scuola sapete che ci serve tantissimo però voglio aumentare le strade aumento le strade si dai aumentiamo un po' di strade perché vedo che mi serve un po' di strade mi servono quindi qua creiamo un po' di cosino qua abbiamo fatto un po' di panico un attimo di panico però subito si riprende se questa strada qui si collega ok si è ricollegata quindi il verde c'è qua mettiamo le scuole ho detto mettiamo le scuole le scuole ok dammele qua basta però ok le scuole le piazzerei qui davanti si piazziamole così le scuole sono tutti contenti con le scuole la scuola mi serve tantissimo mi fa dovrebbe farmi tutto finito in fondo quindi va bene scuola qui si crea un po' di traffico non ho guardato se nelle risorse c'ho qualcosa outside connection nel sottosuolo volevo dire quindi garbage a posto advisor vai a fare in culos si vai a fare in culos si dice in spagna ovviamente io sono spagnolos non è vero che sono spagnolos però posso dirlo tanto qui non è che c'è qualcuno che mi controlla la carta di identità perfetto c'è ancora un po' di richiesta di dobbiamo fare delle nuove strade allora prima di prima di incominciare a fare delle cose proprio assurde io continuerei di qua continuerei a salire seguendo la costa perché si può fare quindi non so come allora intanto mi servono case quindi io partirei di qua a salire poi mi faccio tutta la costa sì penso che farò così perché comunque voglio creare al centro due strade superlevate oh già sono arrivato a 800 ancora sto pensando a come fare le strade 800 firehouse police station ok police station adesso è più importante perché comunque questo qui cos'è la polizia no fire polizia polizia se la piazzo dove a piazzo a piazzerei anche qui la polizia guarda non so dove è piazzata la polizia se non allargo un po' le strade faccio veramente solo del casino faccio quindi allarghiamo anche questo perfetto e lì mettiamoci la polizia polizia che è quell'altro sbaglio sempre sbaglio mettiamolo qui va toc t'ho messo la polizia allora qui c'è un po' di blu ok il blu te lo allargo qui dietro così sei contentissimo qui non costruisco niente ho detto il verde l'importante adesso è partire col verde come si parte col verde allora se noi queste strade qui le facciamo però non vorrei farle subito non voglio spendere dei soldi per le strade le strade costano poi da mantenere intanto dobbiamo trovare un sistema dobbiamo trovare intanto fammi vedere come funziona la corrente se io rompo questo non succede niente vero? infatti non succede niente qua invece non posso rompere allora mi servono delle devo trovare un sistema assurdo ma non riesco a trovarlo non riesco a trovare un sistema che possa favorirmi in qualche modo allora qui all'entrata ci vuole per forza una rotonda qui all'entrata ci vuole una bella rotonda peraltro la rotonda adesso non la posso fare ma la posso creare io se io creo più vado dritto di qua faccio una bella rotonda allora fermati quello che manca qui è un sistema di gestione tipo delle delle strade io faccio una cosa del genere la faccio dritta per il momento eh ok non è proprio dritta ok la faccio di qua 20 20 unità poi arrivati qua io faccio una curva eh faccio una rotonda di 20 unità alla volta quindi 20 e 20 sapete che per fare ok per fare un cerchio perfetto eh avendo segmenti fate 20 e 20 il segmento è perfetto 20 e 20 più o meno perfetto ricordatevi che qua poi non esce tutto perfettissimo ok più corto di uno e poi questo qui lo fai fino a 20 e non lo chiudo però no invece lo chiudo cazzo dici che non lo chiudo ok facciamo sta mega rotonda qui quindi questa mega rotonda per noi è una parte importante della strada perché adesso noi che facciamo qui spacchiamo tutto qui spacchiamo questo noi facciamo una rotonda che esce sì sì si può fare si può fare quindi prendiamola di qua più o meno no aspetta dammi l'altra più o meno ho detto dammela di qua ah sì dai si poteva cambiare ma mica me lo ricordo io qual è il tasto per cambiare maledizione ogni volta faccio un casino perché mi piacerebbe farla di qua a qui a salire però tanto non la posso fare quindi niente allora la faccio da qui a qui dai la faccio così chi se ne frega ok perfetto quindi qua abbiamo eliminato un bel po' di traffico abbiamo eliminato tutto il traffico piuttosto che stare lì fermo fermo io adesso cosa faccio vado qui con le strade normali e faccio gli incroci però non ne voglio fare troppi di incroci quindi ragioniamocelo un attimo qui la parte di ragionamento è la parte più importante secondo me se noi facessimo un altro qui di rotondona avremmo delle belle rotonde avremmo una bella rotonda quindi noi partendo intanto facciamo una cosa stai zitto qua ci sono io e qui comando io ah però sapete che cosa ho sbagliato cos'è che non posso allargare ho sbagliato perché non posso devo aspettare un attimo se lo faccio tutto in una volta perdo soldi in un secondo infatti quasi adesso se un attimo ho bloccato tutto però vedete che arriveranno ok non abbiamo i pompieri intanto io li rimetto li rimetterei pure da questa parte si mettiamoli da questa parte che tanto poi con le giunzioni che facciamo si sistemeranno ok grazie a tutti